Il capitano che se l'è andato ovviamente tra la Stanley Conversion e tutto l'Olimpico, una gara entusiasmante. A Pesso non stiamo a dirlo ma se l'è meritata ampiamente questa Stanley Conversion. Adesso in attesa del derby come vi state preparando psicologicamente visto che si ritorna alla vittoria in maniera anche un po' difficoltosa diciamo. Purtroppo per fortuna saranno comunque sempre tre punti in palio e cercheremo di ottenerli. Avete provato qualche difficoltà però poi la gara è stata sbloccata, l'importante erano i tre punti. Sicuramente il caldo è influito ma io credo che poi le vittorie sofferte siano le più belle.